Buongiorno ragazzi mi chiamo Quinto ho due anni e sono un segugio italiano sono un cucciolotto socievole e giocoso adoro fare lunghe passeggiate e farmi fare le coccole sul divano mi piace sia la compagnia dei bambini che quella degli anziani mi piacerebbe tanto avere una nuova famiglia e se ti fa piacere puoi venire a conoscermi all'arica di borgo san giovanni se invece non hai la possibilità di prenderti cura di me puoi aiutarmi ugualmente condividendo questo video grazie e bau a tutti Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle